Salve a tutti ragazzi, qui Golis, bentornati sul canale di The Maniac Ragazzi, oggi sono qui in questo nuovo video di Destiny 2 per parlarvi degli aggiornamenti che ci saranno con la nuova season Si parla di clan in modo particolare di come si cresce con il clan, quindi il livello del clan E quindi si parla di un ritorno al sistema di lancio di Destiny 2 per quanto riguarda i clan Quindi per ottenere l'esperienza non ci saranno più le taglie, non ci saranno più le taglie giornaliere in particolare Bensì bisognerà fare attività di gioco nel gioco e guadagnare l'XP del clan e liberlare il clan Perché l'obiettivo sarà quello di nuovo di far aumentare di livello perché ci sono delle migliorie sicuramente Di conseguenza le taglie giornaliere del clan spariranno e quindi non ci saranno più E ora ci saranno ben 3 taglie settimanali che richiedono di giocare appunto con i compagni di clan per essere completate Ci sarà sempre una taglia settimanale di PvE, una per il ride e una per il PvP Queste ricompense dropperanno equipaggiamento leggendario e daranno un bel boost all'XP del clan Più il livello del clan cresce più i premi che si ricevono da queste taglie crescono Quindi in una stagione avremo un livello credo da raggiungere e queste taglie ci daranno questo boost di livello E man mano che saleremo ci sarà sempre una miglioria E ci spiegano anche come funzionerà appunto Al terzo livello si guadagneranno componenti ovvero le modifiche quando sarà completata una taglia settimanale Al quarto livello si guadagnano i core di potenziamento quando si completa appunto una taglia Al sesto livello il clan sbloccherà una quarta ricompensa settimanale Quindi per aumentare ancora il livello del clan Per il momento le informazioni che sappiamo sono queste qua Poi appunto si parla dei catalizzatori Bungie ci dice che per quelli che non hanno trovato tutti i catalizzatori disponibili Avremo una miglior possibilità di trovare quelle che ci mancano appunto giocando con il clan Quindi una maggiore fortuna giocando con il clan E però questi aggiornamenti per quanto riguarda i catalizzatori non saranno rilasciati subito Ma bensì ci chiedono di tenere d'occhio le patch note per la disponibilità A grandi linee queste sono le novità sostanziali di questa nuova patch Che sta per arrivare nella season 6 per quanto riguarda i clan Quindi ragazzi io sono molto fiducioso che adesso Bungie lavorando da sola Possa fare un buono e ottimo lavoro Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale Questo qui di Youtube Ma anche andare su Twitch e seguirci lì su Twitch Perché lì ogni sera alle 21 saremo in diretta con Destiny 2 Potete giocare con noi Potrete assistere alle nostre sclerate eccetera eccetera Ora non vi voglio rubare altro tempo Spero che questo video vi sia piaciuto Come sempre lasciate un bel like, commentate, condividete Da Corris è tutto qui The Maniac Enjoy! Ciao!